22 agosto festa del cuore immacolato di maria la devozione al cuore immacolato la devozione al cuore immacolato di maria è antica come il cristianesimo lo spirito santo l'insegnò per mezzo di san luca l'evangelista dell'infanzia del salvatore maria conservava nel suo cuore e meditava tutte queste cose e la madre di gesù conservava tutte queste cose nel suo cuore lc 2 virgola 19 punto e virgola 51 la devozione che porta i fedeli a rendere a maria l'onore e l'amore che a lei si devono a qui la sua origine i più grandi dottori della chiesa cantarono le perfezioni del suo cuore sant'ambrogio sant'agostino san giovanni crisostomo san leone san bernardo san bonaventura san bernardino da siena le due grandi monache sante gertrude e metilde nel secolo diciassettesimo san giovanni eudes padre dottore e apostolo del culto al sacro cuore bolla di canonizzazione si fece dottore e apostolo del culto al cuore purissimo di maria e dal dominio della pietà privata lo introdusse nella liturgia cattolica oggetto della devozione di questa devozione egli ci dice nel cuore santissimo della prediletta madre di dio noi intendiamo e desideriamo soprattutto venerare e onorare la facoltà e capacità naturale e soprannaturale di amare che la madre dell'amore tutta impegnò nell'amare dio e il prossimo poichessia che il cuore rappresenti il cuore materiale che portiamo in petto organo e simbolo dell'amore o piuttosto la memoria la facoltà di intendere con cui meditiamo la volontà che è radice del bene e del male la finezza dell'anima per la quale si fa la contemplazione in breve tutto l'interno dell'uomo noi non escludiamo alcuno di questi sensi intendiamo e vogliamo soprattutto venerare e onorare prima di ogni cosa e sopra ogni cosa tutto l'amore e tutta la carità della madre del salvatore verso di dio e verso di noi devozione al sacro cuore di maria can 1650 p 38 e cuore ammirabile l i c 2 la cosa più dolce per un figlio è onorare la madre e pensare all'amore di cui è stato oggetto san bernardo parlando del cuore di gesù ci dice il suo cuore è con me il cristo è mio capo come potrebbe non essere mio tutto quello che appartiene alla mia testa gli occhi della mia testa sono miei e allo stesso modo questo cuore spirituale è veramente mio cuore è veramente mio e io possiedo il mio cuore con gesù vigna mistica c 3 possiamo dire allo stesso modo del cuore di maria una madre è tutta di suo figlio e gli appartiene con i suoi beni il suo amore la sua vita stessa un figlio può sempre contare sul cuore della madre noi tutti siamo figli della santa vergine che ci accolse con gesù nel suo seno nel giorno dell'incarnazione ci generò nel dolore sul calvario e ci ama in proporzione di quanto a lei siamo costati essa ha offerto al padre per noi quanto aveva di più caro gesù ha detto il suo fiat per l'immolazione lo ha dato a noi e come l'avrebbe dato senza dare se stessa confidenza nel cuore immacolato maria ridice a noi le parole di gesù venite a me voi tutti e vi consolerò ci sorride e ci chiama come alurde nessuno per la sua indegnità a motivo di starne lontano il cuore di maria fu sede della sapienza dimora per nove mesi del verbo fatto carne formò il cuore stesso di gesù e gli insegnò la misericordia verso gli uomini pulsò all'unisono col cuore di gesù e per quel cuore fu ornato dei più preziosi doni di grazia cuore materno per eccellenza resta il rifugio dei poveri peccatori per questo fu fatto immacolato e ne sgorgò soltanto sangue purissimo il sangue dato a gesù perché lo versasse per la nostra salvezza è il cuore depositario e custode delle grazie meritate dal signore con la sua vita e con la sua morte e sappiamo che dio non distribui mai né distribuirà grazie ad alcuno se non per le mani e il cuore di colei che è tesoriera e dispensatrice di tutti i doni è il cuore infine che c'è stato dato con quello di gesù non solo per modello ma perché sia il nostro perché essendo membra di gesù e figli di maria dobbiamo avere con il nostro capo e con la nostra madre una solo cuore e dobbiamo compiere tutte le nostre azioni con il cuore di gesù e di maria san giovanni eudes cuore ammirabile l 11 c 2 consacrazione al cuore immacolato se la consacrazione individuale di un'anima a maria le assicura le grazie più grandi quali frutti non potremo attendere dalla consacrazione del genere umano fatta dal sommo pontefice la vergine stessa si degnò farci sapere che desiderava tale consacrazione e rispondendo al desiderio della madonna di fatima sspio 12 il giorno 8 dicembre 1942 pieno di confidenza nell'intercessione della regina della pace solennemente consacrò il genere umano al cuore immacolato di maria le nazioni cattoliche si sono unite al supremo pastore messa la festa del cuore di maria era stata concessa a parecchie diocesi e a quasi tutte le congregazioni religiose che la celebravano in date differenti sspio 12 malestese a tutta la chiesa e la fissò al giorno 22 agosto vangelo gv 19,25 27 in quel tempo stavano vicino alla croce di gesù la sua madre la sorella della sua madre maria di cleofa e maria maddalena gesù dunque vedendo la sua madre e il discepolo che gli prediligeva disse a sua madre donna ecco il tuo figlio poi disse al discepolo ecco la tua madre e da quel momento il discepolo la prese con sé la maternità di maria data dall'incarnazione ma fu proclamata in modo solenne sul calvario da gesù morente dandoci sua madre gesù ci diede la prova più grande del suo amore e maria accettando di di venirlo ci mostrò quanto il suo cuore possedesse di tenerezza e di misericordia maria non si sentì mai madre come in quel momento in cui vedeva il figlio soffrire e morire in croce intendeva che ci confidava e ci donava a lei e accettò di estendere l'affetto che nutri in vita per gesù non solo su san giovanni ma su noi tutti sui carnefici del suo figlio su tutti quelli che erano stati causa della morte di lui quando il centurione venne ad aprire il cuore di gesù già morto la spada predetta dal vecchio simeone penetrò nell'anima nel cuore di maria e produsse una ferita che come quella del salvatore resterà sempre aperta preghiera al cuore immacolato di maria quali cose grandi e ricche di gloria bisogna dire e pensare del tuo amabile cuore o madre degna di ogni ammirazione lo spirito santo dice che tu sei un abisso di prodigi e noi diremo senza ingannarci che il tuo cuore è un mondo di meraviglie l'umiltà del tuo cuore ti ha innalzata al più alto trono di gloria e di grandezza che possa essere occupato da una creatura l'umiltà la purezza e l'amore del tuo cuore ti resero degna di essere madre di dio e di possedere per conseguenza tutte le perfezioni tutti i privilegi tutte le grandezze che sono dovute a tale dignità per questo io ammiro saluto e onoro il tuo cuore virginale come un mare di grazia un miracolo d'amore uno specchio di carità un abisso di umiltà come il trono della misericordia il regno della divina volontà il santuario dell'amore divino come il primo oggetto dell'amore della santissima trinità san giovanni eudes cuore ammirabile l 9 c 14 apri o madre di misericordia apri la porta del tuo cuore benignissimo alle preghiere che noi facciamo sospirando e gemendo tu non rigetti il peccatore non lo disprezzi anche se al colmo della corruzione e del delitto purché sospiri a te purché implori con cuore contrito e penitente la tua intercessione san bernardo preghiera alla vergine sia sempre benedetto o madre il tuo nobilissimo cuore onorato di tutti i doni della divina sapienza e infiammato dagli ardori della carità sia benedetto il cuore nel quale meditasti e conservasti con tanta diligenza e fedeltà i sacri misteri della redenzione per rivelarceli nel momento opportuno a te la lode a te l'amore o cuore amantissimo a te l'onore a te la gloria da parte di tutte le creature per tutti i secoli dei secoli così sia nicola desa 6 antidotario dell'anima parigi 1495 commemorazione dei santi timoteo ippolito e sinforiano martiri tre martiri hanno l'onore di essere festeggiati oggi con la loro regina immacolata e assunta in cielo timoteo prete originario di antiochia martirizzato nel corso dell'ultima persecuzione il quale con pensiero delicato fu sepolto presso il luogo di sepoltura di san paolo in ricordo del suo omonimo discepolo dell'apostolo ippolito martire romano sepolto nell'isola sacra o isola di porto sinforiano giovane martire dotan contemplato il triunfo di maria in cielo ci pare di capire le parole che disse a sinforiano la coraggiosa sua madre guarda il cielo figlio mio e contempla colui che vi regna sovrano non ti è tolta la vita solo ti è mutata in una migliore grazie a tutti